Se state guardando questo video, forse state valutando l'ipotesi di abbonarvi al mio canale e io ho un paio di minuti scarsi per convincervi che è una buona idea farlo. Forse vi volete abbonare per avere alcuni vantaggi esclusivi, forse lo volete fare perché vi siete resi conto di quanto lavoro ci sia dietro un canale e volete supportarmi in maniera concreta. Comunque sia, queste sono le opzioni a vostra disposizione. Ricordo che i pagamenti sono mensili e naturalmente si può recedere in qualunque momento. Abbonamento supporter 1,99€ al mese è il modo più immediato e meno impegnativo di farmi sapere che apprezzate il canale. Prevede dei badge con l'anzianità di iscrizione al canale. Questi badge oltretutto vi daranno precedenza nelle risposte sotto le live o sotto i commenti dei video. Secondo abbonamento tifosi 5,99€ al mese. Prevede tutte le prerogative del primo abbonamento più un gruppo privato Telegram per scambiarci opinioni e commenti. Inoltre potrete vedere tutti i video che pubblico in anteprima un giorno prima di tutti gli altri. Abbonamento 3, sostenitori. 9,99€ al mese. Tutte le prerogative dei due piani precedenti. Più un video al mese che sarà fatto in esclusiva per gli abbonati e solo per loro. In più una live mensile solo per gli abbonati per approfondire tutti gli argomenti che vi interessano. Nella normale live pensieri in libertà ve ne sarete resi conto siamo tantissimi e non sempre riesco a rispondere a tutti e con il dovuto approfondimento. In questa live più ristretta proprio perché saremo in meno riusciremo a approfondire tutti gli argomenti che volete. Quarto abbonamento estimatori 19,99€ al mese. Tutte le prerogative dei tre precedenti video e in più farò un video al mese sull'argomento scelto direttamente da voi. Per cui ognuno di voi ogni mese potrà suggerire un argomento su cui farò un video che poi pubblicherò sul canale. Più on demand di così. Per trasparenza vi dico che YouTube trattiene il 30% di questi importi per cui a me arriverà solo il 70%. Bene, se sono riuscito a convincervi troverete sulla mia pagina sotto ogni video l'apposito tasto abbonati. Se non ci sono riuscito spero almeno che siate iscritti al canale e che appreziate comunque il lavoro che faccio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.